20 torno di sinistro più, per destra 3, in sinistra 4, in accenno destro, ritarda, chiude e vai, in sinistra 4 più lunga, dopo dosso stacca, chiude e subito destra 3 a rail. In accenno sinistro, in accenno destro, 30, sinistra 4, ritarda, chiude e subito, no, e stacca per tornante destro a rail, 30, sinistra 3, stacca subito per destra 2, ritarda, diventa 3, in accenno sinistro, chiude, in tornante sinistro a rail, destra 3, in sinistra 3, meno, in destra 3, ritarda, chiude e stacca per inversione 90 gradi a sinistra. Accenno destro, al muro stacca sinistra 3, in destra 3, meno, non tagliare, per sinistra 3, meno, chiude e stacca, per destra 3, per destra 3, ritarda, chiude il palo, in sinistra 2, in destra 2, e stacca per sinistra 2, meno, in destra 3, per sinistra 3, per sinistra 3, meno, taglia, e stacca subito per destra 3, e subito sinistra 3, meno, ritarda, e diventa 4, in accenno destro, in accenno destro, e stacca subito per sinistra 3, ritarda, e chiude il palo, in destra 3, ritarda, e chiude 2 all'albero, in accenno sinistro, in accenno destro, in accenno destro, e stacca per sinistra 3, lunga, taglia, e stacca per destra 3, ritarda, poco, in accenno sinistro, e stacca subito per destra 3, ritarda, diventa 4, in accenno sinistro, in destra 3, in sinistra 4, ritarda poco, e stacca per destra 4, meno, in accenno sinistro, ritarda e chiude, e stacca per sinistra 3, diventa 4, in accenno destro, ritarda sinistra 2, fino a chicane, accenno destro, in sinistra 3, meno il cartello, in accenno destra e sinistro, in destra 3, meno, in sinistra 3, in destra 4, meno, in sinistra 4, meno, e alla zebra ritarda in accenno destro, 3,51, 3,51, se è giusto, il miglior tempo quant'è, il miglior tempo quant'è, 50,08?